Il Presidente Renzi, mi sembra che sia l'attuale Presidente del Consiglio, dice di avere ben 20 miliardi in tasca. Dieci si servono per delle sue coperture, i suoi provvedimenti, altri dieci gli avanzano. Noi stiamo qui discutendo per il fatto che non ci sono coperture per pochi milioni di euro, per alcune decine di milioni di euro, per gli alluvionati sardi, ma vivo nella stessa realtà? È lo stesso Paese? Oppure sono due Paesi diversi, quelli di cui parla Renzi e quello che viviamo oggi qui? Grazie.